I consiglieri del gruppo Impegno Comune e del Comune di Agropoli, Salvatore Coppola, Lele Di Nardo e Gianluigi Verrone, hanno protocollato una richiesta di rappresentanza nella giunta guidata dal sindaco Adamo Coppola. La proposta scaturisce da un ragionamento politico che attualmente, secondo i consiglieri, avvantaggerebbe il PD agropolese con ben quattro rappresentanti, Francesco Crispino, Pietro Paolo Marciano, Giuseppe Di Filippo Gennaro Russo e un assessore Rosa Lampasona. Nella lista Coppola i consiglieri sono tre, Luigi Framondino, Nicola Comite e Giuseppe Cammarota con un assessore, Gerardo Santososso. Infine la lista Agropoli Oltre che vede due consiglieri, Massimo Laporta e Bruno Buffano con un assessore, Roberto Mutalipassi. Richiesta legittima o improponibile, visto che il sindaco dovrebbe rinunciare evidentemente ad un assessore del PD che giocoforza, vedi Quoterosa, cadrebbe sull'attuale vice sindaco Eugenio Benevento. Da qui la polemica che si è innescata in città in questo weekend che porta non pochi grattacapi al sindaco Adamo Coppola, costretto ad un anno dalle elezioni, di iniziare una strategia per ricucire l'attuale maggioranza già inesorabilmente impegnata in campagna elettorale.